Oggi parliamo di comicità, lo faremo ridendo molto probabilmente perché lo faremo con Saverio Raimondo, arriviamo Signori benvenuti, una nuova puntata di Spigola, un podcast di Collateral, io sono Andrea Tuzio e oggi con me c'è Saverio Raimondo Confermo, confermo, sei sicuro? Ciao Saverio Sono sicuro così come vorrei far notare che questo microfono è più alto di me, avete mai avuto un ospite più basso del microfono? È la prima volta ma succede anche a me, solo che se sto giù succede qui, poi io tento di alzarmi per far vedere Ma io non solo devo stare alzato con la schiena, cioè io in questo momento sono seduto sulle punte, questa è la cosa incredibile Saverio Raimondo, comico, conduttore televisivo, conduttore radiofonico, partita IVA Totale anche per quanto mi riguarda e stand up comedian, forse uno dei primi in Italia Tra i primi sì Ok, come stai? Come va la vita? Beh, la vita va sempre male, no? Va sempre male, però procede, però procede, per il resto bene Sei contento? Sei in un periodo felice della tua vita? Felici mai Non esiste la felicità? È bravissimo, non c'è niente di più tossico che cercare la felicità, è una dannazione Però si può essere contenti, in momenti di contentezza sì, non mancano Ok, quindi, dicevamo prima, possiamo dire che tu sei tra i pionieri della stand up comedian italiana Ma quando è entrata a far parte della tua vita la comicità? Cioè, soprattutto, come hai coltivato questa passione? Se lo hai fatto oppure è stato un'esplosione pura? No, la comicità è entrata nella mia vita da subito, da quando ero bambino Cioè, alto uguale, ma più giovane Perché da ragazzino vedevo i film di Fantozzi, per esempio Paolo Villaggio era da subito uno dei miei comici preferiti Ma addirittura i film di Charlie Chaplin, i fratelli Marx Cioè, sono cose che ci sono state subito nella mia vita, sin dalla mia infanzia Immagino come per tutti i ragazzini ci sono dei comici, dei film comici Che fanno parte della tua vita da subito Poi la vera e propria folgorazione, diciamo, è avvenuta con la scoperta di Woody Allen All'età di circa 13 anni E ho scoperto prima i libri di Woody Allen Racconti bellissimi, esilaranti, perché non l'avesse mai letti Poi i film Quella è stata una folgorazione, l'età appunto, in 13-14 anni Quindi l'età dell'emulazione E in teoria, data la mia generazione, diciamo, sono 1984 Avevo emulare DiCaprio in Titanic E invece no Perché avresti potuto Ho sbagliato tutto Ho sbagliato tutto ed eccoci qui Com Woody Allen Quella è stata la folgorazione Da quel momento ho cercato in qualche modo di voler fare Le stesse cose sui o di altri Quindi insomma, voler fare cose divertenti E quindi ricordo che Appunto, sin dalla terza media Ho cominciato a scrivere cose Pensando che potessero essere divertenti Le scrivevi soltanto oppure ti esibivi? Perché la domanda è questa Hai scoperto subito Di saper far ridere? Cioè, qual è stata la palestra? Ma intendo quella proprio iniziale A 10 anni, 11 anni, 12 anni? Allora, la scoperta proprio di riuscire a far ridere è stata Concerto di Natale della terza media Che cosa è successo? Senti che aneddoto di una tristezza miserabile Tutto ciò che ha a che fare con le scuole media è sempre miserabile, no? È sempre miserabile Quindi concerto di Natale della terza media Il peggio del mondo Io mi presto a presentarlo Perché comunque sono sempre stato un po' istrionico Diciamo così E mi scrivo delle presentazioni Pensando le comiche Ora, a quanto pare funzionarono Cioè, lo furono Perché effettivamente tutti i risoli Divenne un po' la mascotte della scuola In qualche modo Divenne quello divertente E quindi da allora mi sono reso conto Che potevo essere divertente Però mi sono anche chiesto come mai Riuscivo a essere divertente Allora mi sono guardato allo specchio Mi sono visto e ho capito perché sono divertente Perché sono ridicolo Cioè, la natura mi ha reso ridicolo La voce, la statura, la gestualità E quindi condannato a far ridere la gente Ma secondo te Sì, però poi da lì La palestra qual è stata? Nel senso che lì è stata la prima volta Che hai capito Oh, se scrivo qualcosa Voglio far ridere Ci riesco Ma da lì hai detto Coltivo questa cosa? Sì Diciamo che ho passato l'adolescenza A scribacchiare cose Pensando che potessero essere divertenti Io la definisco un'attività masturbatoria Appunto Perché era molto solitaria In qualche modo Però pensando che Poi metto, diciamo, la testa fuori Quando a 18 anni Mi presento così dal nulla Un'audizione con Serena Dandini Che all'epoca era direttrice artistica Del teatro Ambraio Vinelli a Roma Organizzava queste audizioni Per giovani comici Rivolte a tutta Italia Quindi chiunque voleva affacciarsi A questo ambiente Bussasse a quella porta Io con l'incoscienza di 18 anni Ho detto Vabbè, proviamo Busso, vado Presento, faccio E dicono Ma è interessante quello che fai Molto giovane Molto acerbo Doveva ancora finire il liceo Però Qualcosa c'è Ti andrebbe di collaborare con noi? Certo C'è la Dandini La Dandini che ti chiede Capito? Cioè, è pazzesco Quindi sono riuscito A imparare poi Le cose sul campo Quindi dopo tanta palestra Ripeto, molto solitaria Ho avuto occasione Di entrare dalla porta principale In un ambiente Sia di spettacolo dal vivo Che televisivo E di imparare A affinare le cose sul campo Quindi per fare la stand-up comedy Bisogna essere sul palco E avere il pubblico Per fare poi la stand-up comedy Bisogna farla sul palco Si bisogna scrivere prima Senz'altro Però poi La scrittura Non si ferma al tavolo Non si ferma al computer La tastiera del computer Ma buona parte della scrittura La fai live Sul palco Con il pubblico Sono loro Le tue pagine word Su cui scrivi Davvero le battute E capisci se funzionano Eh sì Esistono diverse Tipi di comicità Come sei arrivato A scegliere proprio La stand-up Come hai capito Che quello Era la tua strada È perché appunto La stand-up comedy È una comicità Che parte Dalla Quella che gli americani Chiamano la self-deprecation Cioè appunto Il prendersi gioco di se stessi In maniera anche proprio Brutale Forte E quindi O sei in grado Di ridere Di te E con te Di far ridere Il pubblico di te stesso Altrimenti La stand-up comedy Non fa per te Io appunto Mi sono visto allo specchio Mi sono visto ridicolo Ho detto ok Si parte da qui Posso funzionare E quindi stand-up Ok Negli anni Sei stato definito Il più americano Il comico più americano Del panorama italiano Questo perché Nella tua scrittura Ritroviamo Quella stessa grammatica Che un po' tutti ormai Abbiamo imparato A conoscere Quali sono i tuoi riferimenti Se arrivano da lì E se c'è qualcuno Che ti ha ispirato Più di altri Ma sì Sicuramente La mia ispirazione Anglosassone Nel senso che I comici americani Tendenzialmente Mi hanno sempre fatto Più ridere Dei comici italiani Ci sono comici italiani Che mi invierto moltissimo Prima citavo Paolo Villaggio Potrei citarne altri Però tendenzialmente Il mio pantheon È un pantheon È un anglosassone Soprattutto americano Woody Allen L'ho citato prima Ma sono cresciuto Con le puntate Di David Letterman Su Rai Sat Sottotitolate in italiano Siamo in due Ecco Quindi anche Letterman Chiaramente È stato un riferimento E a quell'età In cui siamo particolarmente Spugnosi Assorbire quel ritmo Di scrittura Anche se poi L'inglese non è la tua lingua Però poi quel ritmo Inevitabilmente Quando cominci a pensare comico Lo riporti anche Sulle tue cose Ecco perché poi Il mio stile Ha quel ritmo Quella sonorità lì Perché è quella Che io ho assorbito Quindi inevitabilmente Cerco E poi trovo Quando vado a scrivere O a performare In generale poi Tutta la stand-up comedy americana Tendenzialmente mi piace Insomma da mostri sacri Come George Carlin Richard Pryor O più recenti Louis C.K., Dave Chappelle Chris Rock Sono tutti comici ovviamente Che mi ispirano In qualche modo Sì tra l'altro Chris Rock è tornato Sulla questione Will Smith Proprio in queste ore Quindi se volete Potete guardare Il suo spettacolo E capire Non so se è uscito In Italia Ma credo di no C'è stato C'è uno O ci sarà uno streaming live Però proprio su Netflix Che non so Però si è aperto Per l'Italia Ok Perché insomma Ne ha parlato Potete leggere i giornali E capire Dal 26 febbraio A proposito di spettacoli Dal 26 febbraio È ripartito il tour Il tuo tour Intitolato Saverio Raimondo Live Club Tour Settimana prossima Il 26 marzo Sarai qui a Milano A Blue Note A Blue Note A Blue Note Di solito però Si esibiscono Musicisti Cantanti Vai a cantare Non credo No no Promesso Promesso Non canterò La convenzione di Ginevra Mi impedisce di cantare Con questa voce Proprio impedito Per ragioni umanitarie Ma si tratta di uno spettacolo Completamente nuovo In cui ti vediamo sfidare tabù Ipocrisie Nel tuo stile classico Che almeno io Ma tanti altri Abbiamo imparato a conoscere Un po' di spoiler Di che cosa parli Qualcosina Non chiedo molto Chiedo di qualche anticipazione Allora diciamo questo Come in ogni spettacolo Di stand up comic Che si rispetti E in generale Nel mio stile Io spazio e divago molto Quindi si passa Da argomenti molto frivoli A argomenti molto controversi Quindi si parlerà di pizza gourmet Ma anche di body positivity Si parlerà di politicamente corretto Di guerra Di vigliaccheria Di problemi di salute Pagare le tasse Che quello però Non fa ridere Non fa ridere Per niente La professione del comico È proprio riuscire a far ridere Dove non far ridere E questo poi Il grande equivoco Sui comici Si dice Eh ma su queste cose Non si ride No no Fermi tutti Se su una cosa Non si ride È proprio il momento In cui bisogna chiamare un comico Perché quella cosa Faccia ridere E come Cioè Il comico È un idraulico Tu non lo chiami Se il rubinetto funziona Tu lo chiami Quando il rubinetto perde Quindi il comico Deve far ridere Proprio dove il rubinetto perde Quindi dove Non c'è da ridere Dove non c'è da ridere E quindi il comico Deve affrontare Argomenti non divertenti Per mostrarci Il lato divertente E non per sminuirle Quelle cose Ma per affrontarle Riuscire ad affrontarle Questo è un tema Secondo me Molto contemporaneo Ma sì Sì Perché poi Stiamo mettendo in discussione Questa cosa Ma se mettiamo in discussione Questa cosa Mettiamo in discussione Proprio le ragioni Non solo culturali Ma oserei dire Antropologiche Del perché esiste La comicità Il fatto di andare a Blue Note È diciamo Sulla scia di Paolo Conta Alla scala Come lui ha dissacrato La scala E adesso arrivo io Con l'oltraggio al Blue Note A questo proposito Come nasce uno spettacolo Magari più semplicemente Un pezzo Cioè hai un metodo Che hai perfezionato Negli anni Della tua carriera Oppure Passa tutto dalla penna C'è spazio Per l'improvvisazione Come funziona Come si scrive Uno spettacolo di stand up Allora Non ho propriamente Un metodo Definito al dettaglio E questo un po' Mi spaventa ogni volta Che dico Ok Ho bisogno di materiale nuovo Come si fa In qualche modo Ancora me lo chiedo In realtà Di solito succede che Per qualche strana ragione Qualche sinapsi Nel cervello Mi folgora Su qualcosa Un'intuizione Un'idea Noto una cosa Sviluppo un pensiero E mi accorgo Mi si accende un alert Ormai ho sviluppato Questo terzo occhio Ho aperto Questo chakra Della comicità Che mi dice Oh questa cosa È buffa È divertente Può funzionare A quel punto cosa faccio Comincio a mantecare Come quando fai mantecare Metti Il risotto Pure la pasta Comincio a far risottare Questa idea nella testa Ci vuole un po' di tempo Ma al frattempo Però questa idea Comincia a raggiungere Quella consistenza giusta A quel punto Quando sento Che la consistenza è giusta L'odore lo senti È quello Allora mi metto La testa del computer E comincio a buttare giù Un po' di cose Un po' di idee Ma è una traccia Oppure È sempre una traccia È sempre una traccia Quando tu chiudi il file Salvi e chiudi In realtà Tu non hai chiuso niente Quel file è aperto Ed è E lo porti aperto Sul palco E sul palco Vai Cioè Dici quelle cose Che hai scritto Ma nel frattempo Continui a scriverle A modificarle Anche in base Alle reazioni del pubblico Tu scendi quindi Dal palco Che alcune di quelle cose Che le avevi scritte Le hai cancellate Altre le hai aggiunte E questo file È sempre aperto Per me Il rapporto Col materiale È gezzistico Cioè tu hai Una traccia Un tema Rispetto al quale Tu entri Esci Arricchisci Improvvisi Il materiale È vivo Se no che spettacolo Dal vivo è Se è chiuso È chiuso Allora non è più Dal vivo però Esatto Prima Abbiamo citato La data di Milano Solo una Delle 11 tappe Che ti verranno In giro per l'Italia Ma come evolve Lo spettacolo Se evolve durante il tour Me lo hai appena detto È una sorta di Lavoro di riscrittura In un certo senso Sì Sì anche Diciamo appunto Il materiale è vivo e respira Quindi inevitabilmente Si nutre anche Delle reazioni del pubblico Alle volte Nasce sul palco Spesso anche un'improvvisazione Alle volte Quell'improvvisazione Genera una risata Nel momento in cui Genera una risata Io quello che Dico sul palco Ho la fortuna Di ricordarmelo Non ho necessità Di registrarmi Quindi poi Magari me lo vado A puntare Sul file generale E lo spettacolo successivo Riprendo Quell'improvvisazione Che ormai è entrata Al contrario Non è più improvvisata Ma entra dentro Al materiale standard E se vedo appunto Che la risata si riproduce Che non è stato Un caso fortuito Ma al contrario A quel punto Quella cosa Entra nel repertorio Mi piace molto Che hai detto No Rispetto a quello Che il pubblico Dice chiaramente Il pubblico dice Che il pubblico Si reagisce Esatto Come il pubblico Reagisce Ma cosa si prova Esattamente A stare di fronte A un pubblico Più o meno ampio Tenendo in mano Soltanto Il microfono Ok Allora Aspetta però Che emozioni Che emozioni provi E come si evolvono Nel corso Della performance Allora L'emozione iniziale È quella Che provi Quando ti trovi Nudo Di fronte A un altro corpo Nudo Bene Allora Da una parte Sei teso Perché ti senti Inadeguato Dici oddio No Faccio cagare La mia pancia Non è un granché Mannaggia Non ho quei pettorali giusti Sarò delle giuste dimensioni Quindi da una parte Sei terrorizzato Vorresti rivestirti E scappare Dall'altra Però quel corpo Nudo davanti a te Ti piace Che fai? Ti butti Ti butti Quindi è questa cosa Questo terrore A trazione Al tempo stesso E te la giochi Esattamente come quando Fra corpi nudici Si incontra Te la giochi E si vede come va È un diosincrasia Che poi crea Lo spettacolo Bravissimo Allora Come dice il nome Dello spettacolo Live Club Tour Stai calcando I palchi Soltanto dei Solo club C'è una ragione Per motivi stilistici Che differenza c'è Magari tra una grande platea E un club Molto più ristretto Molto più Intimo Mi verrebbe da dire Esatto Hai detto la cosa giusta Intimo Nel senso che La stand up comedy È una comicità da bar Cioè una comicità Che nasce nei club Nei comedy club E Lì si sviluppa Lì cresce Lì vive Secondo me La stand up comedy Nei teatri muore Il teatro è la tomba Della stand up comedy Capisco i colleghi Che fanno i teatri Ma in realtà Fanno del male Al loro lavoro Perché nel teatro Comunque Il teatro all'italiana Soprattutto Ti mette su un piedistaco Piedistallo Proprio architettonicamente È fatto così Ma il piedistallo È esattamente quello Che uno stand up comedian Deve smontare Deve sfasciare Perché tu non devi stare Su un piedistallo Al contrario Diceva Lenny Bruce Che lui era peggiore Dei suoi bersagli Ed è questo Quello che deve passare Una stand up comedy E inoltre Anche il rapporto Con il pubblico Torniamo un po' A quella storia Dei corpi nudi Che dicevo prima Il rapporto col pubblico Deve essere un rapporto Un po' promiscuo Un po' elettrico Cosa che nel teatro all'italiano Con tutti i reggimentati Nelle fine Nelle poltroncine Non è possibile Quello che è successo Alla notte degli Oscar Con Will Smith Che si alza E molla un ceffone A Chris Rock Brutto Gesto orrendo Ma dall'altra però Ti restituisce esattamente Quel brivido Che può esserci Un comedy club Cioè in un comedy club Può succedere Uno si alza e ti metà Uno si alza Trovesce un bicchiere addosso S'alza in prega E se ne va Può succedere E te è mai successo? Mi è successo Qualcuno si è alzato E se n'è andato Senza dirsi nulla? No no Capitava anche Che dicesse qualcosa Capitava anche Che dicesse qualcosa Di solito io rispondevo Con delle battute Il pubblico rideva Quindi riuscivo anche A smorzare quella tensione E poi nel frattempo Si andava a fanculo A posto così Buonanotte Buonanotte Nel senso che In definitiva Se lo spettacolo Non ti piace Talze te ne vai Certo Come quando guardi Qualcosa in tv Hai telecomando Puoi cambiare canale Bravissimo Esattamente Non succede mica Non bisogna guardarlo Devo essere sincero Recentemente Negli ultimi anni Non mi sta più succedendo Perché di solito Che mi viene a vedere Sa cosa viene a vedere Quindi fortunatamente Un minimo di fama Mi precede Quindi lo sai Se vieni a vedere Saverio Raimondo E poi ti ritrovi davanti Saverio Raimondo E ti scandalizza Beh C'è qualcosa che non va Sì Ma non in me In te Perché l'hai scelto Hai scelto di vedere qualcosa Esatto Alla base del tuo lavoro C'è la parola Mi piace tantissimo Come la usi Il linguaggio che Come abbiamo visto Insomma Negli ultimi anni Ne abbiamo parlato anche Un attimo prima È in continua evoluzione Riflette Il modo in cui Cambia la sensibilità Dello spettatore Rappresenta un ostacolo Per te Cioè Che impatto ha Se ce l'ha Sulla scrittura Di un pezzo Di uno spettacolo Allora Certo che rappresenta Un ostacolo Ma il mio lavoro Prevede gli ostacoli Il mio lavoro Cioè fare il comico Vuol dire fare la corsa Agli ostacoli Senza gli ostacoli Io di cosa faccio ridere I comici fanno ridere Dove ci sono dei tabù Date un filo spinato Elettrificato A un comico E quello Comincerà A toccarlo È quello che facciamo Nel lavoro Se mi togli il recinto Io che faccio Dove faccio ridere Senza le cinti Ben venga Il politicamente corretto Perché è ridicolo Come tutti i limiti E quindi io potrò far Ridere sul politicamente corretto Potresti fare uno spettacolo Intero sul politicamente corretto Diciamo che c'è molto materiale Sul politicamente corretto Nel nuovo spettacolo Però anche lì Non è una novità Ogni epoca Ogni generazione Ha i suoi tabù Semplicemente adesso Li stiamo cambiando I vecchi tabù Li abbiamo buttati Adesso abbiamo ripristinati Dei nuovi Quindi ci sembra Tutto nuovo Ma in realtà No è sempre stato così Ci sono sempre state cose Che non si potevano dire E da che mondo è mondo I comici Dicono le cose Che non si possono dire Perché questo è il nostro ruolo Dirle Per 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 Disinnescarle Noi siamo degli artificieri Le parole possono essere delle bombe Per disinnescarle Dobbiamo dirle Ovviamente dirle in maniera ridicola Buffa Affinché perdano la loro potenza Questo è quello che fanno i comici È un po' di sacrare No? È quello che fa un comico Esattamente Esattamente Quindi ben vengano le parole Che non si possono dire Ben vengano i comici Che dicono le parole Che non si possono dire Ma tu credi che Oggi si possa dire Che Cioè Si può fare comicità Su tutto Secondo te? In linea di principio Si Poi all'atto pratico Bisogna vedere A Se il comico è in grado Di far ridere Anche su determinati argomenti E bisogna vedere Se il pubblico è disposto E disponibile A ridere anche di certi argomenti Il famigerato Limite Della comicità Esiste No a priori Ma sia all'atto pratico Però è sempre un confine Che si stabilisce Di volta in volta È sempre Contrattazione Tra il comico e il pubblico Puoi esserci Ti puoi trovare una sera Di fronte a un pubblico Disposto A ridere Della malattia Di certe perversioni E un'altra sera No Certo Ma A questo punto però Mi viene da chiederti Si può affermare Che la comicità È per tutti? La comicità Può essere Per tutti Ma poi di fatto Non lo è Intanto presuppone Essere dotati di senso Dell'umorismo Cosa che tendenzialmente Non tutti possiedono Non tutti possiedono Nello stesso Tasso Come dire Quindi Bisogna Avere a che fare Con gente Che ha un senso Dell'umorismo E che abbia Anche gli strumenti In qualche modo Quindi è chiaro Che ci sono certe battute Anche soltanto Per riferimenti Che possono Tagliare fuori Un determinato tipo Di pubblico Per esempio A me piace sempre dire Che la mia È una comicità Per adulti Perché poi Molti comici Molta comicità Che si fa in Italia Cerca di rivolgersi A tutta la famiglia Soprattutto ai bambini Io dico sempre I bambini non hanno bisogno Di ridere Cioè ridono da soli Ridono da soli Quelli ridono Sia noi che abbiamo bisogno Di ridere Che siamo a pezzi Bravissimo Siamo a pezzi Siamo stressati Non sappiamo mettere Le mani Siamo disperati Noi abbiamo bisogno Dei comici Non i bambini I bambini Gli danno un sacchiotto Gli fai i biribiri Sulla pancia Quello riderà Non ha bisogno Di un comico Il padre La madre Avranno bisogno Di un comico E di una babysitter Sì Ne abbiamo tutti quanti Bisogno Negli ultimi dieci anni Siamo assistendo A quella che potremmo Definire la seconda epoca D'oro della stand up italiana Infatti C'è un vero e proprio circuito Si sta costruendo Comincio Esatto Da che cosa credi Che sia nata Questa scintilla Ma la scintilla Vero e proprio È nata da internet Nel senso che è stato Internet E quindi la possibilità Da parte anche Il pubblico italiano Di vedere certi comici Di vedere una certa comicità Possibilità che prima Non avevamo Vedevamo Daniele Luttazzi Dicevamo Ah wow Poi abbiamo visto I comici americani Abbiamo detto Ah wow Wow due volte È vero Esatto Quindi La scintilla È arrivata da internet Lì abbiamo visto Comici È un modo di fare comicità Completamente inedito Per l'Italia Inevitabilmente È scattato un'emulazione Prima per La mia generazione Quindi la prima Sfornata di stand up comedian Che fondamentalmente È coincisa con il collettivo Satiriasi Nato nel 2009 A Roma E poi c'è stata Una seconda generazione Di pochi anni successiva Ancora più Giovana Anagraficamente parlando Di me Di noi Prima sfornata Che a loro volta Avevano come Emuli Cioè come Come differimento Sia I comici americani Sia questi primi Stand up comedian Italiani E da quel momento Si sono aperte le fogne E quindi YouTube Netflix Prime Video Ci hanno dato la possibilità Di vedere Tantissimi Un'offerta Molto molto ampia Come dicevi tu Questo ha dato la possibilità Anche a noi italiani Di conoscere Un certo tipo di comiticià Tu stesso nel 2019 Hai debuttato su Netflix Con lo spettacolo Il Satiro Parlante Com'è nato il progetto? Ce lo racconti? Ma guarda in realtà È nato in maniera Molto curiosa Nel senso che Jacopo e Giulio Due pirati Potremmo quasi dire Due corsari Dissero Ma proviamo a filmare Degli spettacoli Gli stand up comedy In santeria Qui a Milano Poi proviamo a bussare Alle porte delle piattaforme E vediamo se qualcuno Se lo compra Prima porta che vanno a bussare Quindi filmiamo Quindi filmiamo Con l'incoscienza Nel senso filmiamo Facciamo al meglio Le nostre possibilità Poi vediamo che fine farà Prima porta che vanno a bussare Ma quasi così Per ridere Per ridere Bravi Siamo a Netflix Prima porta qui bussi Netflix Poi Netflix Ti dirà di no Oh ancora più probabile Manco ti risponde A quel punto bussaremo Andiamo giù Finchè non lo autopubblichiamo Su YouTube Quindi bussano La porta di Netflix Presentano il progetto E Netflix dice Sì ok compriamo Wow E siamo finiti su Netflix Qual è stata la tua sensazione Quando Allora purtroppo Io lì Ho scoperto un lato brutto Del mio carattere Cioè una volta Sono finito su Netflix Non ero contento Ho detto adesso Adesso che faccio Lo sai che ti capisco un po' Perché è sembrato come un obiettivo raggiunto E quindi quando raggiungi l'obiettivo E poi devi fissare un nuovo obiettivo Esatto Brutto Difficilissimo tra l'altro Tu sei riuscito a farlo Sì perché ho capito In realtà Almeno io funziono così Che per me gli obiettivi Non sono in verticale Cioè non voglio crescere Anche perché mi è impossibile Fisicamente Fisicamente La natura mi dice Tu non puoi Crescere L'obiettivo quindi Non me lo fisso mai in verticale Ma in orizzontale Cioè se ho fatto questa cosa Qui a questa altezza Non ne cerco una più su Ma ne cerco una O più a destra O più a sinistra Guardo l'orizzonte Non la verticalità E quindi l'obiettivo Me lo cerco Altrove In qualche modo In un certo senso Allarghi gli orizzonti Non li allunghi Bravissimo Luciano De Crescenzo diceva Che tutti cerchiamo Di allungare la vita Quando in realtà Bisognerebbe allargarla Bravissimo Aveva estremamente ragione Estremamente ragione Estremamente ragione Allora Come vediamo quindi Esistono diversi modi Per fruire la comicità Sì Nel esempio Live Perché è È proprio Istituzionale Seguire la comicità live Diciamo che è il modo Migliore Esatto Non ci dentro da fare Poi possiamo guardarci Uno spettacolo Belli comodi Seduti sul divano Su Netflix Prime Video YouTube Quello che è I podcast Ehi ciao Siamo noi Le tracce audio A questo proposito Lo scorso gennaio È uscito il tuo primo Comedy album Ce l'abbiamo lì Eccolo Ok Live a studio 33 Composto da dieci tracce Confermo Confermo Disponibile in vinile E in digitale Esattamente Qui abbiamo il vinile Quello non è digitale Quello è fisico È vinile fisico È un'operazione Senza precedenti In Italia Sì I dischi Woody Allen E Lenny Bruce Fra i primi stand up Comedian Hanno fatto Dei comedy album Ancora oggi Gli stand up Comedian Fanno comedy album Tanto che Una delle categorie Dei Grammy Awards È miglior comedy album Quest'anno l'ha vinto Dave Chappelle Per dire Quindi è normale Negli Stati Uniti Da noi Non si sono mai fatti Comedy album Fondamentalmente Perché non avevamo Gli stand up Comedian Cioè La scena della stand up È talmente giovane Che ancora Nessuno aveva fatto Un disco Io sono stato il primo Ma immagino Non resterò a lungo Solo Ecco Quindi Anche perché Devo dire Che il comedy album È dopo lo spettacolo Dal vivo Il miglior modo Per fruire La stand up comedy Restituisce Quell'elettricità Dello spettacolo Dal vivo Molto di più Della ripresa video Che per certi aspetti In gabbia Lo spettacolo Mentre La suggestione audio Riesce a A stimolarti Di più E quindi Quasi a farti vivere Esattamente il brivido Del live Io sono molto contento Di come è venuto il disco Proprio per il modo In cui si sente il pubblico La risata L'applauso del pubblico Non solo per come si sente Ma È bella perché senti Che proprio il pubblico È vero È vivo Perché è una registrazione live Sì esatto Quindi c'è quello Che ride da solo Perché la battuta La capita solo lui Oppure Senti che la risata Non è mai Corale Tutti insieme C'è quello che ride più forte Quello che tossisce C'è uno che rompe un bicchiere A un certo punto Durante una traccia Si sente un bicchiere Che si rompe E improvviso Una reazione Su quel bicchiere rotto Quindi è Un vero e proprio live Un vero e proprio live E trovo che ascoltarlo così Anche diviso in tracce Quindi Della durata quasi Di un brano musicale Sia un bel modo Per fruire La stand up comedy Anche perché Entrando nelle orecchie Dell'ascoltatore È un po' come quando Durante gli spettacoli dal vivo Intercetto lo sguardo Del pubblico E si crea appunto Quell'intimità Quasi col pubblico Ma quindi Ti faccio una domanda Secondo te L'album Quello lì Può essere la naturale Evoluzione un po' Del podcast O Al contrario Un ritorno Agli origini Secondo te Guarda Viviamo anche In un momento In generale Nel quale Cosa viene prima E cosa viene dopo Non si è più bene capito È un po' tutto collassato Quindi Per certi aspetti Secondo me Le cose viaggiano Tutte in parallelo Cioè L'album Ha un senso Nella misura in cui È Nel mio caso È proprio uno spettacolo In vero Diviso per tracce È un unico grande spettacolo Quindi è un'opera singola Il podcast Al contrario Ha una sua narrazione seriale No? Il concetto delle puntate Quindi è un po' la differenza Tra film e serie Se vuoi In qualche modo La frizione è la stessa Ti metti lì con le cuffie O comunque alzi il volume E ascolti Però L'approccio In qualche modo Sia per chi lo fa Che per chi l'ascolta È leggermente diverso Quindi viaggiano in parallelo Viaggiano in parallelo Assolutamente Ok Uno degli aspetti Che ti contraddistingue Da sempre È la tua irrequietezza Io apprezzo moltissimo Anche perché mi ci rivedo In qualche modo Ma è questa tua vivacità A spingerti Nella continua ricerca Di nuovi modi Di nuovi linguaggi Per veicolare La tua arte Perché questa è arte Come avviene Questo processo? Cioè Come riesci a sfruttare Questa irrequietezza? Se riesci a dirmelo Te ne sarei Grazie Allora In realtà C'è una parte La mia irrequietezza Che è dettata Da quella famigerata Partita IVA Che dicevo Perché purtroppo Non ci si può mai fermare Sì 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 Io sono partita IVA Anch'io Quindi alcune cose Che faccio Le faccio per rispondere Al commercialista Altre invece Le faccio per rispondere Alla musa Quelle che faccio Per rispondere Alla musa Sono appunto Frutto di solito Di una ricerca Una volta che faccio Una cosa Poi tendenzialmente Non ho più voglia Di farlo Voglia di appunto Allargo l'orizzonte Cerco qualcosa di diverso Fatto lo special Su Netflix Non ho più avuto voglia Di fare uno special Per Netflix O per un'altra piattaforma Mi sono chiesto Come potevo sfruttare La stand up comedy Per fare altro E ho trovato Il comedy album Devo dire che mi ha dato Talmente gusto E soddisfazione farlo Sono talmente contento Del risultato E delle reazioni Del pubblico Al risultato Che non escludo Poi in realtà Nel caso il comedy album Di ripetermi Neanche altro Questo non lo escludo Però tendenzialmente Io sono già adesso Alla ricerca Di un'altra idea Di un altro territorio Più o meno vergine Tanto voglio dire Qualunque cosa io faccio Comunque qualunque cosa Qualcuno faccia La farà diversamente Da come l'hanno fatta gli altri Certo E quindi anche se non è una cosa Tra virgolette originale Lo sarà Se lo fai In maniera personale Personalmente poi La questione dell'inrequitezza L'ho messa a reddito Diciamo così La sfrutto Non dormendo Il segreto è non dormire Non devi dormire Stai sveglio E qualcosa ti verrà in mente A un certo punto Senti In live A studio 33 C'è un pezzo Intitolato Ansia Sì certo Anche qui adesso Apriamo un capitolo Credo che ci accomuna In più hai scritto anche un libro Il tuo primo libro Il tuo primo libro Sull'ansia Siamo calmi Come ho imparato A non preoccuparmi E ad amare l'ansia Per capire noi Come fare Dobbiamo comprare Per forza il libro O puoi spiegarcelo tu? Dovete comprare Per forza il libro Perché vi ricordo Questo problema delle tasse Eccetera eccetera Il libro lo dovete per forza comprare Detto questo Posso dirvi Che il libro È appunto Un libro che ti dice Che non devi superare l'ansia Al contrario Devi trasformare Quest'energia cinetica Se abbiamo noi ansiosi Lo dobbiamo incanalare Per Per fare del bene A noi stessi Come agli altri Non è un libro Di autoaiuto È un libro di aiuto aiuto Perché appunto È un libro Ansioso per gli ansiosi È un libro umoristico Ovviamente Però c'è un fondamento Di verità Cioè penso che alle volte I problemi non li dobbiamo risolvere Perché al cercare di risolvere i problemi Non facciamo altro E creare altri problemi Li dobbiamo accettare Ma quando hai capito Che Ho capito Oppure hai compreso In maniera consapevole Che eri un soggetto ansioso E beh Sai lo capisci Nel senso che Quando vedi che gli altri Non si preoccupano Di cose che al contrario Non ti fanno dormire alla notte Dici O sono pazzi tutti O sono pazzo io Quindi capisci di essere tu Esatto Capisci di essere tu l'ansioso Del resto E l'imprinting è materno Perché mia madre Donna ansiosa A livelli proprio agonistici Ti dico solo che Lo racconto nel libro Quando mia madre Mi dava da mangiare Da quando ero bambino Di solito le madri Devono incitarti A mangiare Ecco mia madre Lo faceva in questa maniera Metteva la cena di fronte E mi diceva Mangia che stai morendo Non sto scherzando Poi è stato l'imprinting Di mia madre Tu capisci Che se tu cresci A mangia che stai morendo Beh un filo d'ansietta ti viene Sì sì Beh ecco Posso dire che invece Io prendo tutto da papà Di vista c'era mio padre C'è mio padre Che con una sua dose D'ansia abbastanza massiccia È riuscito a Come si dice A passarmela Proprio coi cromosomi Tutti quanti Uno dietro l'altro Purtroppo Questa è la mia ansia Falla tua Esatto E così è stato Io però vorrei chiudere Con una domanda Che va oltre la comicità La tua esperienza Con il doppiaggio Sì Io non lo nascondo Prima di accendere La telecamera Tu ho fatto i complimenti Perché adesso Ve lo spiego Negli ultimi anni Hai avuto due esperienze Sì Nel mondo del doppiaggio La prima È stata con Luca Il film d'animazione Della Pixar Giusto? Giusto Corretto Per il quale Hai dato la voce Al personaggio di Ercole Allora Prima di tutto Se l'avete visto La voce di Ercole E di Saverio Raimondo Ed è un Clamorosamente bravo Non perché è qui Io l'ho detto anche A telecamera spenti A microfoni spenti È un lavoro meraviglioso Cinque volte campione Della Portorosso Cup Per dire Esatto Com'è stata l'esperienza? Tra l'altro Lo hai doppiato Sia in italiano Che in inglese Sì E la domanda poi arriva Dato che Credo che il risultato Sia stato ottimo È un ambito Che ti piacerebbe Esplorare ulteriormente In futuro? Ma Sì Molto volentieri Tant'è vero Che poi quando si è presentata L'occasione In questo caso Solo per la versione italiana Con troppo cattivi Un altro film d'animazione Questo è un caso In questo caso Nella Dreamworks Ovviamente ho accettato Faccio notare Che io doppio soli cattivi Mi voglio specializzare In questo ruolo Non mi proponete Ruolo da buono Per favore Non lo faccio Da contratto A noi piacciono i cattivi Sì È un terreno Mi piace molto Devo dire che La soddisfazione Di lavorare A Luca È stata triplice Anche perché Dare la propria voce A un originale D'animazione Vuol dire dare Un contributo proprio Creativo Al personaggio Perché quando tu dai La tua voce A un film d'animazione In originale In realtà Il film ancora non c'è Mentre quando lo doppi Vedi il film Quando dai la voce All'origine Il film ancora non c'è Perché l'animazione Viene fatta sulla tua voce Quindi la tua voce Determina anche Molto del carattere Visivo E dell'animazione Di quel personaggio Tanto che quando poi Sono venuti Quelli della Pixar A presentare il film In Italia La produttrice Andrea Warren Mi ha portato i complimenti Degli animatori della Pixar Che si sono molto divertiti A animare Luca Sulla mia voce Perché Gli ho dato molti colori E quindi a livello di animazione Si sono molto divertiti Poi a muovere A dare le espressioni A Ercole Visconti Quindi La soddisfazione È stata anche quella Di poter Contribuire Nel mio piccolo Al processo proprio Creativo Generativo Del film No io devo dire Che è stata Una sorpresa Incredibile Perché La tua capacità Di doppiatore Clamorosa Onestamente Io sono rimasto Davvero a bocca aperta Sai che mi sono in parte Ispirato Perché Ercole Visconti Questo bullo del paese Uno stronzettino Uno stronzetto Uno stronzetto Anche un po' Cialtrone Poi in realtà Un po' Ridicolo A suo modo Come tutti i bulletti Del paese E lui a questa entrata In scena Nel film Arriva a Portorosso Sgommando con questa sua vespa Suonando il claxon Saluta tutti Eccetera Questa cosa Mi ha immediatamente Ricordato Calboni Ricordate Calboni Ma certo Ma certo Il ragionier Calboni Geometra Geometra Calboni Quando arrivano Mi pare A Courmayer E lui Strombazzano Con la sua macchina Ciao Ciao Saluta tutti E saluta tutti E me immediatamente E loro ho cercato Di portare Un po' Di Calboni Dentro A Ercole Visconti E mi piace Pensare di esserci Riuscito Fantastico Se non avete presente Chi è Calboni Andate a cercare Naturalmente Un personaggio Dell'universo Della ragioniera Ugo Fantozzi Uno dei nostri Punti di riferimento Perché io sono del 1982 Io 84 Perfetto Quindi Siamo Veniamo dallo stesso Abbiamo lo stesso background E siamo cresciuti Con il buono Ugo Fantozzi Paolo Villaggio Meraviglioso Allora Due cose Prima di chiudere Dal 26 febbraio È partito Il tour Di Saverio Raimondo Si chiama Saverio Raimondo Live Club Tour Ricordiamo A Milano Al Blu Not Il 26 marzo Esatto Poi Se vi volete fare Un bel regalo Se volete fare Un bel regalo C'è Live A Studio 33 Che si acquista Proprio al Blu Not Cioè Venendo a vedere Il mio spettacolo Al vivo C'è il banchetto Con i dischi E potete acquistarlo Grazie mille Grazie mille Saverio È stata una chiacchierata Meravigliosa E in bocca al lupo Per tutto Crepi Ciao Noi abbiamo finito Signori Alla prossima Peace Spigola Spigola è un podcast Prodotto da Collateral Con la conduzione E la direzione artistica Di Andrea Tuzio Il coordinamento editoriale E quello di produzione Sono di Giulia Guido Gli autori sono Andrea Tuzio Giulia Tofi E Tommaso Berra Mentre il coordinamento tecnico È di Cristiano Di Capua Le riprese e il montaggio Sono a cura di Andrea Gianni Le grafiche sono di Paola Mangiarotti E le foto di Andres Juan Suarez Il set design invece È stato realizzato da Parasite Per i social Si ringraziano Giordana Bonanno E Violetta Schautz Infine Un ringraziamento speciale Va al nostro Pascherosso Spigola Per il sostegno e la pazienza